L'8204, storia postale della Repubblica in due faldoni. Questi sono per l'estero, per gli Stati Uniti. Questi sono per l'estero, per gli Stati Uniti. Qua c'è qualche intero postale, cartoline, a nulla di girare di Sicilia. Qua c'è roba un po' più vecchietta. Insieme molto eterogeneo, di qualità assolutamente varia, come si può vedere, cose migliori meno buone. Qua c'è roba un po' più vecchietta. 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 questi sono per gli stati uniti se volete altri video o informazioni scrivete a filateliachiocciola4baiocchi.com